Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Fare però attenzione per nebbia a banchi segnalata in A1 tra Firenze Sud e Incise Reggello, in A11 tra Montecatini e Capannori e sulla Fipili tra Firenze e Ginestra. Sulla statale 1 Aurelia, per lavori tra Follonica Nord e Follonica Est, scambio di carreggiata, chiusura dello svincolo di Follonica Nord in direzione Livorno. Sul raccordo Siana-Firenze, scambio di carreggiata, per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. A Firenze, per lavori, in via Pratese, chiusa la corsia di collegamento con via del Palaggio degli Spini. Poverse Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!